Che cosa le ricorda il 2017, gennaio del 2017? No, vada, è un grande lavoro fatto dalla provincia di Teramo su quello del ripristino dei danni che ci furono allora con le neviche A17, di cui benefici oggi li vede anche questa provincia, perché tutti quei lavori messi in campo nel 2017 hanno permesso di mettere in sicurezza tutti gli assi stradali. Mi ricordo tutte le palificate, le gabionate, le aperture delle strade fatte in quegli anni. Ha permesso oggi la provincia di avere strade almeno in sicurezza. Poi lì attiviamo pure quel finanziamento attraverso il masterplan della riasfaldatura delle strade provinciali, quindi abbiamo ridato anche la dignità alle strade provinciali, un lavoro terminato da questa provincia, con questo Presidente di Capoeventura. L'unico cosa che abbiamo chiesto a un gruppo di consigli di minoranza negli ultimi consigli provinciali, e lo diremo con forza anche nel prossimo consiglio che ci sarà il 28 luglio, in cui nel DUP che approda il Presidente non abbiamo opere nuove. Cioè, lo vedrete, abbiamo tutta una serie di lavori sull'edilizia scolastica, ma non abbiamo una nuova programmazione sulle strade provinciali. In quel 2017, in cui ci fu ovviamente uno stato emergenziale, perché ricordiamo il terremoto, e ricordiamo ovviamente a metà gennaio la famosa storica nevicata, si arriva al 2018 con un'inchiesta chiamata Paltopoli. E adesso c'è la richiesta di archiviazione da parte del PM. Però, a parte la parte dell'inchiesta che c'è stata, che alla fine può essere corretta e doverosa, noi ricordiamo che quella provincia, Corenza-Badino, abbiamo gestito tre emergenze, perché abbiamo gestito i fondi dell'alluvione 2011, che hanno stati spesi da parte di questa provincia, l'abbiamo gestito di noi con grande difficoltà. Poi abbiamo avuto l'alluvione 2015, ricordo, noi facciamo 3 milioni e mezzo di sommorgenze, anche lì, per quel lavoro. Poi a fine ci fu l'emergenza, il terremoto del 2016 e l'emergenza del 2017, quindi il problema sulle scuole, il problema sulle strade, le nevicate, quindi abbiamo avuto una provincia con grande affano, con grande difficoltà, con una grande sfortuna, perché, lo dico, tutti quegli eventi che si andarono a mettersi insieme in quei tre anni di legislatura da parte del Ministero Renzi Sabatino. Amministrare significa anche essere felici e sopportare un'inchiesta a cuore aperto, senza paura, giusto? Sì, ma alla fine chi fa attività politica, attività pubblica, sa che alla fine può essere attenzionato per l'attività che ha fatto i giorni, quindi è corretto e ci può stare, quindi si mette già in conto quello che può succedere. Io penso che in tre anni il Ministero provinciale tanti problemi abbia risolti in questa provincia di Termo di che oggi se ne vedono i benefici sulle nostre strade e sulle strade provinciali.